Pantalone della titta Jack and Jaws, ma prima di parlare del pantalone voglio parlare della nostra tabella taglie e spesso a centimetri. Chigliate un vostro pantalone, chiudetelo come ho fatto io in questo momento e andate a misurare il pantalone da lato a lato dove mettiamo la cintura, alla terza del fascione e fate riferimento alla nostra tabella taglie che vedete sulla vostra destra. Parlando un attimino di questi due pantaloni dove parliamo di una lavorazione in principe di Galles e una lavorazione tinta unita sul blu. Il pantalone ha due tasche al lato, in questo caso la francese, un taschino in questo caso con chiusura con bottone, il discorso della parte posteriore in questo caso abbiamo sempre una chiusura con la tasca col bottone. Vi faccio vedere anche questa che è la variante del colore, abbiamo sempre un tessuto che ha questo 2% di elastane, quindi che dà questo effetto di comfort sia nel punto vita e per quello che riguarda il discorso della gamba. Taglie forti o moribili siamo sempre una tagliavata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.